Si chiama Jessica White, vive in Canada e purtroppo le è morto il marito che si chiama Sean mentre era a Houston in Texas dove il marito appunto si recava per lavorare. Però diciamo che questa donna ha fatto una scoperta incredibile, pensava infatti di avere il marito perfetto, Sean secondo lei era perfetto, quando però è morto ha scoperto qualcosa di orribile, un segreto proprio sul suo conto. Pensate che la donna addirittura ha deciso di mangiare le sue ceneri in quanto fu poi cremato. Va bene? Infatti ha digitato le iniziali a KO sul suo dispositivo, sono usciti risultati difficili da accettare. Il marito infatti era un personaggio che cercava escort a Houston. E così ha scoperto che la donna, che buono in strada, era un abituale di donne, di prostitute, di escort. Va bene? Si incontravano Jessica e Sean in Giappone, lui lavorava come insegnanti, lei 24 anni, lui 28. Si sono sposati nel 98, poi sono tornato in Canada per crescere in Fiotesh, Sean accettò il lavoro in quella di mangiare un'azienda, a Deve in Colorado e quindi si vengono spesso per gli Stati Uniti d'America. Va bene? La donna ha avuto una reazione veramente molto forte, tanto ha deciso poi di prendere i ceneri e mangiarseli. Una vicenda veramente incredibile. Ho profanato i resti di mio marito, così ha detto la donna in questione, in sensi di colpa, ma nella disperazione più totale, ha mangiato insomma le sue ceneri, profanando il corpo. Va bene? Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, il video termina qua, fatemi sapere cosa ne pensate, una buona giornata a tutti, da parte mia. Grazie. Al prossimo episodio.